Salvatore Monni, sinistra per Roma, candidato qua in un insesto municipio, un municipio abbandonato da anni, abbandonato da Bertroni. Poi c'è stata la storia d'Alemanno che voleva buttare giù i palazzi e poi ricostruire. E poi c'è stata l'ultima giunta che comunque è stato abbandonato quel progetto di distruzione del quartiere ma di fatto non c'è stata una manutenzione nel territorio. Ecco qui come vediamo, se vedete un po' la situazione del territorio, come pensa Sinistra per Roma che tu sei candidato a Presidente di Sinistra per Roma? Qual è il programma? Allora intanto, grazie, io non penso che Roma e anche il municipio 6 siano sufficienti piccoli cambiamenti, non bastano piccoli cambiamenti tecnici per migliorare la situazione che è stata lasciata, che lei descriveva. Sembra un cambio radicale, un cambio che parte dal modello di sviluppo di riferimento. Questa città dal 1993 ad oggi è stata governata, nonostante quei 4 anni a cui lei faceva riferimento della giunta Alemanno, dallo stesso modello di sviluppo. E' quello che molti hanno chiamato come modello Roma. Ecco noi dobbiamo ripartire da quello, un nuovo modello di sviluppo. Sinistra per Roma credo che sia l'unica proposta politica in campo oggi che fa riferimento ad un cambio di modello di sviluppo. Gli altri partiti pur nelle differenze, tutti quanti il riferimento è lo stesso sempre a quel modello. Non è sufficiente piccoli cambiamenti, ma un nuovo modello di sviluppo. Che significa un nuovo modello di sviluppo? Partire dalle opportunità. Quel modello di sviluppo, il modello Roma, ha creato disuguaglianze dentro la città, disuguaglianze incredibili, che sono disuguaglianze di reddito, quelle che tutti conosciamo o anche di queste situazioni, ma sono anche e soprattutto disuguaglianze di opportunità. Questo è il municipio più giovane, il municipio dove ci sono più disoccupati, il municipio dove il numero dei laureati è più basso, è il municipio dove il numero di fuga dalle scuole è più alto. È da lì che bisogna ripartire, bisogna ripartire dagli individui. Al centro della nostra politica ci saranno gli individui e le opportunità per gli individui. Una delle cose che dicono gli altri partiti, ma non solo gli altri partiti, è che dicono sempre che non ci stanno i soldi. Il municipio non ha molte competenze e questo è un limite. Io mi rendo conto che fare delle promesse da candidato presidente del municipio, conoscendo le scarse competenze, vuol dire anche creare illusioni. Quindi il municipio deve avere un ruolo anche di sollecitare chi quelle competenze le ha. Dove le competenze sono del comune, il municipio deve avere il ruolo di sollecitare il comune. Dove le competenze sono di enti specifici, il municipio deve avere quelle competenze. Però il municipio ha un'importanza politica, non indifferente. In questo municipio è un municipio di 260.000 abitanti. Quindi significa che chi è eletto al municipio, chi è eletto alla presidenza, è eletto alla presidenza di una città di 260.000 abitanti. Qui ci sono zone, addirittura quartieri di questo municipio, penso a Torreani, che sono l'equivalente di città stesse. Non solo questa è una grande città, ma all'interno di questa città ci sono tante città di 80, 50, 60.000 abitanti con le loro differenze. Il sesto municipio, come del resto Roma, non è tutto uguale. Anche nel sesto municipio, come a Roma, ci sono centri e periferie. Quindi chi vuole lavorare in questo municipio deve innanzitutto partire dal conoscere il municipio, studiarlo e trovare le politiche più adatte per ogni singolo territorio. Non pensare che il municipio sesto sia uguale dappertutto. San Vittorino non è come Torre Bellamonaca, non è come Torre Spaccata, non è come Torre Angela, non è come Torre Gaglia. Sì, esatto. Comunque ci sono delle cose che si potrebbero fare direttamente. Per esempio, qui faccio un esempio, c'è quella recensione, c'è un'associazione in centro antiviolenza per le donne, in centro antiviolenza della donna, dove aveva fatto una richiesta di dedicare il parco a una delle vittime, di dedicare il parco a una delle vittime, qui è successo che il comune di un certo punto hanno ricentrato, non c'è nessuna scritta, ho parlato con quell'associazione e mi hanno detto che c'hanno intenzione, però non si capisce bene, di aprire il supermercato, a parte la dedica della piazza. Ma qui sembra proprio che ci stanno centri commerciali, nuove edilizie, sia su Roma, ma anche qua in piccolo, non c'è niente volontà politica di fare un uso del territorio sul sociale? Allora, tanto questo municipio non è solo il degrado, non è cosa, questo municipio ha anche tantissime risorse e la risorsa principale di questo municipio sono i suoi abitanti, sono gli individui. Questo municipio, ma non è che lo dico io, lo dico io, il numero di associazioni che sono nate, il numero di comitati di quartiere, il numero di, come diceva lei, il numero di associazioni che si occupano di problemi coagenti. Cosa ha fatto purtroppo la politica negli ultimi anni? La politica si è approfittata del fatto che queste associazioni hanno svolto magari queste cose. Ecco, non dobbiamo fare questo, ce ne dobbiamo stare accanto, dobbiamo parlare con tutte le associazioni, dobbiamo parlare con tutta la popolazione del territorio, dobbiamo aiutarla, dobbiamo aiutare a superare questa situazione. Però, ripeto, questo territorio ha una ricchezza incredibile, la ricchezza maggiore di questo territorio, il suo capitale sociale, che è tanto importante quanto quello umano, quello fisico, sono le persone che lo vivono. Ed è una cosa che io vedo quotidianamente, incontrandone le persone, discutendo con loro, parlandone, sono persone che vivono il territorio e che lavorano per il territorio. Grazie a tutti.